Se uno resta chiuso in se stesso, pensa di aver capito tutto, invece non ha capito niente. L'esperienza e il confronto con le altre persone, con tranquillità, con umiltà, è una crescita sia personale per me, ma sia anche per quello che mi vede, che io gli posso insegnare o per quello che io posso ricevere. Il condividere con le altre persone è la cosa migliore per poter crescere se stessi e far crescere la società. Perché la chiusura, e questo ve lo posso dire come nel campo delle arti marziali, sappiamo che tanti stili sono andati persi, perché? Perché erano chiusi, io sto parlando del campo delle arti marziali. Ma non ci sono segreti, non ci sono leggende, ci sono allenamento, condivisione, se vuoi crescere. Se vuoi restare nell'ambito di dire, ah, vuoi attirare le persone, io conosco questa tecnica, non ce ne sono tecniche segrete, ci sono la voglia di allenarsi e condividere, e imparare, e crescere. Dal Mastro Reale è tutto. Ciao ragazzi.